Creato a immagine e somiglianza di Dio, purché lavori la terra, l'uomo ha il diritto e il potere di dominare il processo del lavoro e dell'economia, perché divenga vero il suo progresso. A tale condizione si potrà e si dovrà parlare contro l'assenteismo, contro il doppio o tripolo lavoro, contro il lavoro minorile e chiedere a tutti, particolarmente a coloro che operano nei servizi da assicurare a chi ha maggiormente bisogno, onestà, competenza ed efficienza. Giovanni Paolo II afferma, l'uomo ha la priorità sul lavoro e il lavoro ha la priorità sul capitale, cioè sull'insieme degli strumenti di produzione. La produzione quindi deve essere organizzata perché ci sia un razionale profitto, sempre salvaguardando i diritti della persona e le esigenze della famiglia. Più degli affari conta la qualità della vita. Il lavoro deve essere diretto a produrre per soddisfare le necessità autentiche della popolazione e non per assecondare la bramosia di guadagno di aziende, di gruppi o di singole persone che immettono sul mercato merci inutili o dannose come droga, arbi e pornografia. Per una priorità dell'uomo sul lavoro non bisogna sottovalutare che ogni persona ha il diritto dovere di lavorare secondo le proprie attitudini. Anche il lavoro della donna deve conciliarsi con la vocazione di madre e lo stesso lavoro domestico dovrebbe avere un giusto riconoscimento da parte della società. Nel contempo la ricompensa del lavoro deve essere tale da garantire all'uomo e alla sua famiglia una vita dignitosa sul piano materiale, sociale, culturale e spirituale, pur tenendo conto del tipo di attività e del grado di produttività di ciascuno delle condizioni dell'impresa e del bene comune. Per ridurre gli squilibri economici sono necessarie le prestazioni sociali come gli assegni familiari, l'assistenza sanitaria, le pensioni di invalidità e vecchiaie, le assegurazioni varie, tenendo poi sempre presente che l'uomo non deve mai essere schiavo del lavoro. Bisogna programmare orarie e ritmi che salvaguardino la salute e l'incomunità, turni di riposo e ferie. I lavoratori hanno anche il diritto di associarsi tra loro per la difesa degli interessi vitali degli uomini impegnati nelle varie professioni. Tali associazioni sono chiamate sintacati. Compito specifico dei sintacati è la difesa degli interessi esistenziali dei lavoratori. Essi sono un esponente della lotta per la giustizia sociale, per i giusti diritti degli uomini del lavoro a seconda delle singole professioni. La lotta sindacale, quindi, è per il bene degli altri e non contro gli altri. Quando un sindacato organizza scioperi, dimostrazioni serrate non tanto per la difesa del bene della categoria che rappresentano, ma piuttosto per motivi politici, per difendere il proprio interesse e dimostrare la forza politica dell'associazione, detto sintacato, non ha più un motivo di esistere, essendo venuta a mancare la sua funzione specifica. In caso di conflitto economico e sociale, si deve fare ogni sforzo per giungere a una soluzione pacifica, benché sempre si debba innanzitutto ricorrere a un dialogo sincero tra le parti. Lo sciopero può tuttavia rimanere anche nelle circostanze odierne per un mezzo necessario, benché estremo, per la difesa dei propri diritti e la soddisfazione delle giuste aspirazioni dei lavoratori. Bisogna però cercare quanto prima le vie atte a riprendere il dialogo per le tentative e la conciliazione.